A che punto siamo in Italia con il trattamento dei pazienti con epatite C? Lo abbiamo chiesto al professor Colombo in occasione di un incontro organizzato a Milano proprio per fare il punto su questa malattia. Professor Colombo, che passi avanti sono stati fatti nella cura dell'epatite C e quali regimi terapeutici abbiamo oggi a disposizione in Italia e quali risultati danno? A partire dal gennaio dello scorso anno in Italia disponiamo di almeno 5 regimi terapeutici orali per la cura dell'epatite C accanto ad almeno 2 regimi a base di interferone. Noi siamo arrivati tardi ad avere disponibilità di questi regimi orali rispetto agli Stati Uniti d'America e le grandi nazioni europee ma per esempio siamo in anticipo rispetto a paesi ben più ricchi di noi come Taiwan, Corea del Sud e Giappone. E questo ritardo, mi si passa il commento, è stato ben investito perché il professor Pani di AIFA ha potuto negoziare al meglio il prezzo di rimborso di questi regimi e ottenere ad esempio quello che solo noi abbiamo in Italia, di poter curare le malattie più gravi del fegato come la cirrosi da virus C con un regime di 24 settimane allo stesso prezzo di 12. E questo ci avvantaggia rispetto ad altri paesi al punto che noi abbiamo dei tassi di guarigione che sfiorano il 100% dei casi. Abbiamo imparato subito rapidamente ad utilizzare in modo ottimale questi regimi che possono essere anche combinati, voglio dire un farmaco di un'azienda col farmaco di un'altra azienda e le scelte che noi facciamo tengono conto sostanzialmente del genotipo, del sottotipo infettante, della gravità della malattia e dalla precedente utilizzo di farmaci a base di interferone per la cura della stessa epatite. E di nuovo nel nostro centro Milano ad esempio le nostre scelte sono guidate da ragioni di costo. I regimi meno costosi hanno la priorità di applicazione fatto salvo queste condizioni. Ora i regimi sono divisi in due grosse categorie, i regimi a base di inibitori della polimerasi virale e i regimi che si compongono di una mescola di farmaci che attaccano il virus su due o tre fronti. Ora i regimi che contengono farmaci inibitori della polimerasi sono dimostrati molto maneggevoli e al momento pangenotipici, cioè possono curare infezioni del genotipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. I farmaci che compongono invece i regimi privi di inibitori della polimerasi contengono sempre un inibitore delle proteasi e qui al momento hanno un importante limite. Innanzitutto il genotipo. Possono andare per l'1 e per il 4, che in Italia rappresenta il 10% delle infezioni. Ma soprattutto non possono essere somministrati ai pazienti cirrotici con precaria compensazione clinica. Quindi c'ha il più B o C proibiti, perché inducono effetti tossici talvolta pericolosi. Quindi c'è una certa differenza. Qual è la sua opinione sui criteri di prioritizzazione delle nuove terapie? Abbiamo fatto di necessità virtù. Noi avevamo a disposizione una cifra immensa, un miliardo di euro. Abbiamo potuto negoziare l'acquisto, riteniamo tutti grossomodo, di 50.000 regimi terapeutici e abbiamo dovuto scegliere chi trattare per primo. Per questioni ovvie di giustizia distributiva, palesemente è stato scelto di trattare i più avanzati, i più gravi. Quindi i cirrotici, compreso anche i precirrotici, i pazienti trapiantati d'organo, i pazienti con tumore, secondo alcune peculiari caratteristiche, alcuni pazienti con complicanze extraepatiche dell'epatite C, ma classificate come importanti severe, quindi con compromissione renale e vasculitica, o addirittura con malattie proliferative del sistema linfatico. Quindi abbiamo scelto di curare le persone che, a giudizio clinico, stanno rischiando più di altri qualità e quantità di vita residua. Ovviamente la nostra speranza è che nel prossimo futuro si possa allargare la platea dei pazienti da trattare.